Musica Amici di Onda Libera, oggi siamo all'Emporio di Fano dove si è tenuto un convegno sul tema della eco-biocosmesi. Sì, abbiamo con noi la naturopata Mirella Torelli. Mirella, quanto è importante conoscere un cosmetico a partire dall'etichetta? Diciamo che più che importante è fondamentale conoscere un cosmetico a partire dall'etichetta perché è il biglietto da visita del cosmetico stesso, l'etichetta. E in quanto tale ci permette di capire quanto il cosmetico sia naturale, quindi fruibile per noi e quanto non ci faccia male il cosmetico stesso. Quindi un'etichetta che comprende un inci, quindi al suo interno ci dice che il cosmetico ha tantissimi prodotti, tanti dei quali, sappiamo benissimo, prodotti di natura sintetica. È un cosmetico ovviamente che si allontana da quelle che sono, diciamo, i principi del rispetto della nostra salute, del rispetto della salute anche del pianeta. Anche del pianeta, viaggiano all'unisono, diciamo, questi concetti. Quindi diciamo che l'elenco degli ingredienti è alla base del cosmetico stesso. Io sono, oltre che naturopata, un'insegnante di massaggio infantile e quindi mi trovo ad insegnare, ad educare i genitori a massaggiare i loro piccoli. E per piccoli intendo anche neonati di 15 giorni. Ovviamente in queste pelli nuove pure e che hanno, diciamo, già tutto quello che è un bagaglio, diciamo, di sostanze perfette, all'ennesima potenza, non vanno minimamente inquinate, anche perché parto sempre da un presupposto fondamentale, cioè che la pelle è, come dicevo prima in serie di conferenza, un organo. In quanto tale comunica col mondo e, chiaro, non lascia passare per fortuna tutto, altrimenti non sarebbe la nostra barriera, però le sostanze passano. Come passano i cerotti medicamentosi, passano anche le sostanze che noi ci mettiamo sulla pelle. Quindi devono avere la stessa qualità dei cibi che noi mangiamo. E quindi per i neonati, per i bambini, devono essere il più naturali possibili, come lo sono quelli di questa linea cosmetica. Grazie allora. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.